Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è a cura del pastore Davide Rostan. Allora benvenuti e benvenuti a questo momento di culto. Ci vogliamo raccogliere alla presenza del Signore. Signore tu ci chiami a te e ci liberi in vista di un servizio e di un nuovo cammino. In te ritroviamo la forza di immaginare un futuro là dove l'orizzonte si era chiuso. In te troviamo chi ci resterà accanto quando avremo perso ogni fiducia. Grazie per esserti preso cura di noi e di rinnovare le tue cure anche quando noi ti cacciamo lontano da noi. Vogliamo ascoltare insieme questo versetto tratto dal libro dell'Esodo dal capitolo 16 il versetto 3 che dice i figli di Israele dissero loro fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Ci raccogliamo brevemente in preghiera. Signore quando l'orizzonte diventa oscuro, nostalgici, ci rifugiamo in un passato che ci sembra sempre migliore. Quando i risultati ci sembrano difficili da ottenere e forse lontani, diamo la colpa a qualcun altro, spesso anche a quelli che avevamo considerato fino a poco tempo prima degli eroi. Signore donaci uno sguardo lungo che ci aiuti a compiere scelte i cui effetti siano oltre la nostra esistenza e il nostro breve tempo. Dacci la forza e il coraggio di prenderci cura del creato che ci hai affidato e del nostro prossimo. Amen. Lode all'altissimo, lode al Signor della gloria. Nelle dei secoli noi celebriam la vittoria. O su cantiamo e tutti insieme giubiliam, in terra e in cielo adoriamo. lode all'altissimo, lode all'altissimo, lode all'altissimo, lode all'immenso creato. lode all'altissimo, 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 lode all' L'odio all'artissimo re della grazia infinita, Tutto il grido non ci forza, benessere e vita. Non è dolore, non ci abbandona il Signore, Che il mondo in Cristo ha salvato. Quello che vi propongo oggi è un viaggio, Un viaggio che ben conosciamo, Il viaggio della liberazione del popolo di Israele, E lo facciamo rileggendo insieme un testo super conosciuto, Che è quello delle tavole della legge. Vi leggo quindi dal libro dell'Esodo, dal capitolo 20, dal primo versetto. Allora, Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, Dalla casa di schiavitù. Non avere altre idee oltre a me, Non farti scultura né immagini alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, O qua giù, sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro. E non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso, Punisco l'iniquità dei padri e sui figli, Fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, E uso bontà, fino alla millesima generazione, Verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, in vano, Perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del riposo, per santificarlo. Lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro, Ma il settimo giorno è giorno di riposo, Consacrato al Signore, Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, Né tu, né tuo figlio, né tua figlia, Né il tuo servo, né la tua serva, Né il tuo bestiame, Né lo straniero che abita nella tua città, Poiché in sei giorni il Signore fece i cieli e la terra, Il mare e tutto ciò che è in essi, E si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Onora tuo padre e tua madre, Affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Non uccidere, Non commettere adulterio, Non rubare, Non attestare il falso contro il tuo prossimo, Non concupire la casa del tuo prossimo, Non concupire la moglie del tuo prossimo, Nel suo servo, nella sua serva, nel suo bue, nel suo asino, Né cosa alcuna del tuo prossimo. L'avventura che conduce a questo testo notissimo, conosciutissimo, Inizia secoli prima, Quando nel paese d'Egitto, Noi sappiamo che il farone ha fatto un brutto sogno, Il farone ha sognato che ci saranno delle vacche grasse e poi delle vacche magre. Non trova nessuno che è in grado di interpretargli questo sogno e alla fine Giuseppe, L'Israelita, Sarà colui che riuscirà a dare una lettura per placare quest'ansia, un'ansia di scarsità, E gliela risolve nella maniera più logica possibile. E gli dice, accumula il grano negli anni delle vacche grasse, Negli anni in cui c'è buon raccolto, In modo che poi, quando ci saranno le vacche magre, ce ne sarà. Questo racconto porta a far diventare, ovviamente, Giuseppe, Il funzionario di alto rango, Il braccio destro del farone, Che porta avanti delle scelte politiche Che, abbiamo visto, hanno le loro radici in un incubo, Nella paura della scarsità. E adesso cosa succede? Che i contadini che non hanno cibo, Negli anni delle vacche magre, Vanno da Giuseppe E offrono denaro in cambio di cibo, Così che il governo del farone si arricchisce ancora di più. Ma quando è già stato preso tutto il denaro, I contadini ritornano a chiedere cibo, E a questo punto Giuseppe prende il loro bestiame, Quelli che una volta si sarebbero chiamati mezzi di produzione. E l'anno seguente i contadini hanno ancora bisogno di cibo, Ma non hanno più denaro e non hanno più le mandrie. E così si consegnano volontariamente in schiavitù in cambio di cibo. Perché dovremmo morire sotto i tuoi occhi, Noi le nostre terre. Compra noi le nostre terre in cambio del pane, Noi con le nostre terre saremo schiavi del faraone. Dacci la semenza perché possiamo vivere. E così accade l'inevitabile. Giuseppe comprò fuori il faraone e tutte le terre d'Egitto, Gli egiziani vendettero ognuno il proprio campo, Perché la carestia li colpiva gravemente. Così il poese diventò proprietà del faraone. La schiavitù nell'Antico Testamento, Prima ancora della schiavitù degli israeliti, Quella più nota, È una schiavitù che accade perché i forti, Il faraone aiutato da Giuseppe, Ottiene un monopolio a scapito dei deboli. Non solo agli egiziani, Ma anche tutti gli altri popoli Che vivono in quel momento in Egitto, A tratti, A causa di una carestia, Dalla presenza di grano nel paese d'Egitto. Non solo quindi i contadini ottengono cibo, Diventano schiavi, Ma in qualche modo ne sono grati. E si rivolgono così a Giuseppe. Tu ci hai salvato la vita, Ci sia dato di trovare grazie agli occhi del nostro Signore, E saremo schiavi del faraone. Possiamo dire quindi che I contadini egiziani In qualche modo vivono in un'ansia, In un'ansia e in una paura, Che è simile a quella del faraone. La paura e l'ansia Generati dalla scarsità di risorse, Dalla paura di non essere tra coloro Che in qualche modo riescono ad accedere a queste risorse. E chi ha paura e chi vive nell'ansia Non ha tempo, Nè energia, Per coltivare il bene comune. L'ansia provoca la formulazione di politiche, Di pratiche e di sfruttamento Che sono nemiche del bene comune. È un sistema avido, È uno stato di allerta perenne Che non permette nessuna politica alternativa. Veniamo a sapere che dopo un po' Cambierà il referente politico di Giuseppe, Morirà il faraone E non uscerà un nuovo faraone Che non aveva conosciuto Giuseppe. E a quel punto, Anche il popolo di Israele diventerà schiavo. Diventerà schiavo e le condizioni verranno indurite dal nuovo faraone. Il re d'Egitto dirà loro Mosè e Aronne perché distraete il popolo dei suoi lavori? Andate a fare quello che vi è imposto. E il faraone diede quest'ordine agli ispettori del popolo e sui sorveglianti. Voi non andrete più come prima alla paglia al popolo per fare i mattoni. Valdano da soli a raccogliersi la paglia. Comunque imponete loro la stessa quantità di mattoni di prima, senza diminuzione, perché sono dei pigri. Perciò gridano dicendo, andiamo a offrire sacrificio al nostro Dio. Questa gente sia caricata di lavoro e si occupi di quello, senza badare a parole bugiarde. Oggi le chiameremo quote di produzione. Il popolo di Israele, come gli altri egiziani, sottomessi all'autorità del faraone, devono raddoppiare il loro lavoro, devono andarsi a cercare loro stessi la paglia per fare i mattoni. E i sorveglianti induriscono le loro punizioni e li sorvegliono senza tregua. Gli israeliti vengono percossi perché non hanno portato a termine il loro lavoro di fabbricare i mattoni. La politica violenta del faraone ha uno scopo che va oltre il semplice sfruttamento. Mostra che il faraone, in fondo, è spaventato anche lui. La perdita del lavoro, l'umiliazione dell'impero e la partenza degli schiavi sono le cose che lo preoccupano di più e per questo indurisce le proprie pene. Così essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente, amareggiarono la loro vita con una rigida schiavitù, adoperandoli nei lavori d'argiglia e di mattoni e in ogni sorta di lavori nei campi. Imponevano loro tutti questi lavori con asprezza. La sprezza tradisce il fatto che ormai si tratta non solo di un sistema di sfruttamento, ma la paura che sta dietro questa politica è una politica che si rivela in tutta la sua durezza e in tutta la sua violenza. Addirittura il faraone ha talmente paura che qualcosa possa succedere tra i suoi schiavi che ne ordina l'uccisione di tutti i figli maschi. Un po' come tagliarsi da soli l'albero sul quale si siede. Si uccide la prossima generazione di schiavi. E questo dolore, questa violenza, questo sfruttamento provoca un grido. Il dolore non può essere tenuto a bada a lungo. La sofferenza che viene provocata non può essere silenziata per molto tempo. La realtà umana della sofferenza ha una voce e questo grido non è rivolto a qualcuno in particolare, è un grido verso l'alto. I figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle gride. Le gride che la schiavitù strappavano loro salirono a Dio. Dio udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. C'è qui un momento decisivo della storia di Israele e in fondo di tutta la vicenda umana. E' una svolta drammatica che è caratterizzata da una scelta divina nuova a favore di un'alternativa, una scelta che è caratterizzata dalla semplice capacità di azione umana. Questa trasposizione in capacità di azione umana è dovuta al fatto che il Signore vede, vede l'afflizione del suo popolo che è in Egitto, ode il grido che gli strappano i suoi oppressori, riconosce i suoi affanni, scende per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese, in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Ittiti, gli Amorei. Ed ecco, le gride dei figli di Israele sono giunte a me, dice il Signore, e ho anche visto l'oppressione con cui gli egiziani li fanno soffrire. E' un sogno, è un grande sogno, quello di andarsene, quello di lasciarsi alle spalle le quote di produzione, le frustate, lasciare alle spalle il regime dello sfruttamento, della paura, dell'ansia, della scarsità. E questo sogno è guidato dal personaggio che ben conosciamo, quello di Mosè. E' un sogno, un viaggio, un viaggio che a un certo punto ci porta attraverso il Mar Rosso e ci arriviamo così nel deserto. E nel deserto però le cose non sono così facili, c'è un lungo viaggio da fare, e appena c'è un contrattempo il popolo di Israele si lamenta, come abbiamo ascoltato. Fussimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto. La memoria è immediatamente fallace, ci si ricorda di pentole piene di carne che non esistevano e pane a sazietà che non era affatto vero. Ma perché quando si è schiavi, si è schiavi anche dentro. Non c'è soltanto un oppressore esterno, c'è una schiavitù interna da quale dobbiamo essere liberati e che quando siamo di nuovo di fronte alla paura della scarsità attraverso il deserto ci conduce a rimpiangere i bei tempi andati che non sono mai esistiti. Ma il Signore darà al suo popolo grazia nel deserto, gli darà le quaglie e poi gli darà anche la manna, questa pallina minuscola che può essere trasformata in un pane, in una schiacciata, e gli dirà che questo pane prodigioso, un gesto della grazia divina, rende anche il deserto un territorio dove si può vivere. Ecco, ognuno ne raccolga quanto gli basta per il suo nutrimento. Un'omer a testa. Secondo il numero delle persone che vivono con voi, ognuno ne prenda per quelli che sono nella sua tenda. I figli di Israele fecero così, ne raccolsero gli uni di più e gli altri di meno. Lo misurarono con l'omer. Chi ne aveva raccolto molto non ne è bene eccesso e chi ne aveva raccolto poco non gliene mancava. Ognuno ne raccolse quanto gli ne occorreva per il suo nutrimento. Questo racconto che sta al centro dell'immaginazione di Israele incarna la capacità di generosità di Dio che sta in contrasto assoluto con l'incubo della scarsità. Il pane prodigioso, che se conservato rischia di essere imputridire, che non va conservato, che va mangiato giorno e giorno, è raccolto giorno per giorno, è un pane di cui ne abbiamo abbastanza, ma non troppo. Abbastanza perché nessuno abbia a patire la fame, ma non troppo, perché nessuno ne possa accumulare. Il Dio creatore che controlla il rifornimento del pane spezza la stretta del monopolio alimentare a cui ci aveva abituato il faraone. Il cibo viene dato gratuitamente al di fuori del sistema economico, che funziona come una piramide egiziana, dove ben pochi stanno in cima al mucchio. Per questo, e con buone ragioni, il termine pane viene associato nella Bibbia alla generosità divina, perché in qualche modo la risorsa concreta è indispensabile per la vita nel mondo. Ciò che Israele scopre nel deserto è che esiste un'alternativa al sistema del faraone. Si può affermare in qualche modo che la lunga storia di Israele non è altro che una lotta, una contesa, tra il sistema dell'insufficienza e della scarsità e della paura del faraone e l'offerta dell'abbondanza da parte di Dio. In qualche modo anche la storia della nostra Chiesa e dell'umanità non è altro che una contesa tra l'insufficienza che preme per avere il controllo e l'abbondanza che fa emergere delle strutture di generosità. Ma in qualche modo se ci spingiamo all'indietro, fino all'idea della fiducia fondamentale, tutta l'avventura umana è la storia di questa opposizione tra la scarsità e il sogno dell'abbondanza. Il sogno dell'abbondanza che è l'unica cosa che può spezzare la spinta compulsiva della scarsità. E così giungiamo al Sinai, dove questo testo viene collocato. Si arriva dall'incubo dell'insufficienza passati per il miracolo dell'abbondanza e tutto il popolo, mentre si avvicina alla montagna, sa già che tutto quello che arriva da Dio è in qualche modo un'ubbidienza nuova e dice noi faremo tutto quello che il Signore ha detto, ancora prima di sapere che cosa il Signore dice. Israele sa che ogni ordine che proviene da Dio, dal Dio dell'abbondanza è meglio degli ordini del Faraone. E riceve così dieci parole. Le prime tre, io sono il Signore e il tuo Dio, non farti scultura, non pronunciare il nome del Signore e Dio tuo in vano, servono a imparare che l'amore, il servizio e la fiducia vanno indirizzati a Dio e non al sistema di sicurezza del Faraone. Queste tre parole sono nient'altro che in fondo un cambiamento di regime. Dichiarano che esiste un'alternativa, non c'è più il Faraone, c'è Yahweh. Il comandamento è questo, rendere culto a colui che libera dal Faraone, rendere onore all'inscruttabile santità di Dio, che non può essere compressa in un sistema di produzione. Poi ci sono altre parole, quelle che vanno dalla quinta alla nona. Onora tuo padre e tua madre, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo. E da qui noi possiamo imparare che il proprio prossimo deve essere rispettato, protetto e non sfruttato, senza distinzioni. Queste parole in qualche modo mettono un confine netto al modo in cui si può usare del proprio prossimo. Il Faraone invece non conosceva alcun limite, alcun confine, ma era libero di maneggiare e manipolare il suo prossimo in ogni maniera allo scopo di accrescere la produzione e di gestire la propria ansia e la propria paura. Al Sina invece diventa chiaro che il prossimo è un fine e non un mezzo, che sono attori della loro storia e non soltanto ingranaggi di un sistema di sicurezza. Dall'ultima parola, Israele impara che c'è un limite, dunque, al desiderio di possesso. Non concupire la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, nel servo, nella serva, eccetera. Non è questo un comandamento che vieta degli atti meschini di invidia, ma invece vieta delle pratiche rapaci, delle politiche violente che rendono i più deboli vulnerabili all'ambizione dei grandi. Nel sistema economico del faraone nessuno stava al riparo. Nessuno stava al riparo dal sistema predatorio del faraone. Nel campo, nella moglie, nella casa, nel petrolio sono al sicuro di fronte a una potenza più grande. Nessuna delle risorse, dei paesi più piccoli, nessuna delle poche cose che ciascuno e ciascuna può avere, compreso il proprio corpo. Il sistema di sfruttamento del faraone credeva che ci fosse sempre bisogno di qualcosa di più e che si avesse il diritto di prenderselo. Ma ovviamente in questo sistema non si può costruire ordine sociale, perché questa pratica di appropriazione indebita non fa altro che generare altra paura e altra competizione, rendendo impossibile il bene comune. E noi oggi ne vediamo gli effetti. La quarta parola, quella che riguarda il sabato, serve a insegnarci che il riposo del giorno di Shabbat è un'alternativa all'ansia aggressiva. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo giorno di riposo consacrato al Signore Dio tuo. Lo Shabbat non riguarda in primo luogo il culto. Ma riguarda l'interruzione del lavoro, il sottrarsi al sistema ansiogeno del faraone, il rifiuto di lasciare che la propria vita venga definita dalla produzione, dal consumo, dalla ricerca senza fine, del proprio benessere privato. È più facile invece immaginare che nel sistema del farone non c'era Shabbat per nessuno. Tutti lavoravano tutto il tempo, gli schiavi non avevano un giorno libero e probabilmente per raggiungere le quote di produzione dovevano anche essere disposti a coprire mansioni diverse allo stesso tempo. Ma nemmeno il faraone si prende un giorno libero perché è troppo occupato a scrivere note di lavoro e mettere ordini e quote di produzione. E il risultato di tutto ciò era che tutti erano catturati dal processo infinito della produzione, della paura, della scarsità e dell'accumulo. Ma al Sinai insieme a Israele noi siamo in grado di ricordare una cosa che fa parte del racconto della manna. Non si doveva mettere da parte il pane per il giorno seguente ma c'era un'eccezione alla regola che riguardava esclusivamente il giorno di sabato. Guardate che il Signore vi ha dato lo Shabbat per questo e il sesso giorno egli vi dà del pane per due giorni. Per che ognuno stia dov'è, nessuno esca dalla sua tenda il settimo giorno. Anche nel deserto dove non c'è affatto pane d'avanza, anche nella disperazione, nella distruzione c'è modo di celebrare lo Shabbat. Anche nel contesto disperato l'interruzione del lavoro è una regola perché il Dio del Sinai vuole che si investano energie nella socialità e non nel rendere più sicuri se stessi per fare carriera come nell'impero. Ovviamente ci sono anche i furbi, quelli che nel giorno di Shabbat lavorerebbero il doppio e a più mansioni per ottenere un vantaggio nella corsa per il pane. Ma l'economia del Sinai è diversa. Lo Shabbat è un'occasione di crescita della comunità per mangiare insieme, ricordare, sperare, cantare, ballare, raccontare storie. tutti esercizi che non hanno alcun valore produttivo. Al Sinai con questa parola che riguarda il sabato impariamo che c'è un modo accettabile per organizzare la società che esula dalla corsa dei topi nella gabbia. Gli antichi israeliti dunque lasciano il Sinai avendo dentro una nuova possibilità. Diventano capaci di sognare il sogno della sazietà per tutti un sogno che rifiuta i comuni ricorrenti incubi della scarsità di risorse. Certo, esistono ancora violenze e sfruttamenti di ogni genere ma questa parola qui viene detta una volta e per sempre. Il pane era stato donato e spezzato, i comandamenti erano stati ricevuti, lo Shabbat era stato celebrato. Alla fine la Torah viene spostata dal Sinai a Gerusalemme e lì sorsero nuovi profeti che presero la visione del patto del bene comune donata al Sinai per estenderla. Dal Sinai attraverso Gerusalemme arriva per noi un nuovo e ricco scenario di bene comune, di benessere nella pace. Uno di questi profeti canterà così negli ultimi tempi il monte della casa del Signore sarà posto in cima ai monti e si eleverà al di sopra delle colline e i popoli affluiranno adesso. Verranno molte nazioni e diranno venite saliamo al monte del Signore alla casa del Dio di Giacobbe e egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri poiché da Sion uscirà la legge da Gerusalemme la parola del Signore egli sarà giudice fra molti popoli arbitro fra nazioni potenti e lontane dalle loro spade fabbricheranno vomeri dalle loro lance roncole una nazione non alzerà più la spada contro l'altra e non impareranno più la guerra potranno sedersi ciascuno sotto la sua vita e sotto il suo fico senza che nessuno li spaventi poiché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato l'alternativa esiste ed è proprio dello stesso genere di quella più antica coloro che ricevono l'abbondanza che li travolge sono capaci di dare una nuova direzione alle proprie energie distogliendole dall'ansia colma di paura per investirla nel bene comune della socialità amin di parola di parola l'aventura e la sua vita l'aventura di parola l'aventura l'amnura l'aventura 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vogliamo concludere ricevendo insieme la benedizione che il profeta Isaia ci rinnova. La ascoltiamo insieme in questi versetti che ci dicono o voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Che il Signore possa guidare i nostri passi, le nostre mani, le nostre parole. Accompagni i giorni che vengono e ci renda testimoni della sua giustizia. Amen.